Allora buongiorno, grazie naturalmente a tutti voi, noi siamo la rappresentanza del gruppo misto del senato, soltanto un minuto per dare informazioni di come è composto il gruppo misto del senato che vede la presenza di sette senatori, quattro sono senatori e senatrici che hanno una composizione politica, cioè della componente dell'alleanza verde-sinistra che era ovviamente candidata alle elezioni, gli altri tre invece sono senatori a vita, la senatrice dell'Irana Segre, il senatore Mario Monti e il senatore Renzo Piano che ci fanno l'onore di partecipare al gruppo misto e quindi naturalmente io parlerò in questa sede come presidente del misto ma anche ovviamente come esponente della componente verde-sinistra. Abbiamo voluto dire al presidente Mattarella quelli che dal nostro punto di vista sono gli argomenti e gli elementi che ci vedono più sensibili in questa fase complessa e importante della vita democratica del nostro paese e abbiamo però voluto cominciare il nostro ragionamento con lui e il nostro intervento con lui ricordando a tutti un dato, cioè che il centrodestra, le destre di questo paese hanno sì il 59% dei seggi e dei parlamentari ma hanno soltanto il 43% dei voti in questo paese. Quindi sono maggioranza assoluta in Italia solo in virtù di una legge elettorale, la peggiore legge elettorale dal nostro punto di vista della storia della Repubblica e quindi abbiamo voluto dire al presidente Mattarella che uno dei primi se non il primissimo impegno del nostro gruppo sarà quello di presentare una proposta di legge per tornare al proporzionale. Una legge proporzionale che possa effettivamente cancellare le distorsioni clamorose che si sono determinate in questi anni e che possa anche servire o almeno cercare di colmare l'altra grande distanza con la quale ci confrontiamo oggi, cioè la crescita esponenziale dell'astenzionismo. Anche a questo punto abbiamo voluto discutere con il presidente Mattarella, in Italia abbiamo avuto 6 milioni di elettori in meno rispetto all'ultima volta, tutti gli istituti di ricerca e gli istituti di studi concordano su un dato, questi elettori sono esattamente i cittadini più colpiti dalla crisi sociale, quelli che vivono peggio, quelli che vivono nelle aree più periferiche, quelli più poveri. È vero che non torneremo a una condizione ottocentesca in cui votavano solo i ricchi e i ricchissimi, ma il rischio di una democrazia munca è un rischio fortissimo. Abbiamo voluto rappresentare al presidente Mattarella che per l'appunto cambiare la legge elettorale, immaginare una legge elettorale in cui è più forte il diritto di scelta degli elettori e il rapporto tra elettori ed eletti potrebbe essere un elemento di controtendenza positivo rispetto a quello per l'appunto che è successo nel corso di questi ultimi anni. Naturalmente abbiamo ragionato con il presidente, abbiamo spiegato le ragioni per cui il nostro gruppo, come potete ovviamente bene immaginare, non darà la fiducia al nuovo governo. Abbiamo espresso tutta la preoccupazione perché riteniamo che le ricette espresse che abbiamo ascoltato in campagna elettorale, in particolare sui temi sociali da parte delle forze di maggioranza che hanno vinto le elezioni, dal nostro punto di vista non riusciranno a rispondere ai grandi temi aperti in questo Paese. Crediamo che questo Paese sia attraversato da molto tempo a questa parte da una grande questione che è la crescita della diseguaglianza sociale, che è il problema più serio con il quale ci confrontiamo, la forbice tra chi vive peggio e chi vive meglio è una forbice che si è profondamente allargata. A questo naturalmente negli ultimi mesi in particolare si è aggiunto il gravissimo problema delle bollette, dei costi giganteschi, dell'inflazione. Insomma c'è una condizione nel Paese di grande preoccupazione. Noi pensiamo che si debba rispondere fortemente a questo. Non crediamo che le proposte del centro-destra che abbiamo ascoltato in campagna elettorale siano nella condizione di dare possibili soluzioni concrete e naturalmente speriamo che alcune proposte che pure sono state avanzate possano diventare terreno di discussione in tutto il Parlamento. Per esempio quella di tassare al 100% gli extra profitti delle società energetiche che hanno profondamente speculato in questi anni e che noi pensiamo rappresentino oggi un terreno attorno al quale cambiare radicalmente lutta. Noi abbiamo proposto tante volte in questi mesi la tassazione degli extra profitti. Pensiamo e speriamo che si possa su questo creare non soltanto un dibattito politico trasversale ma dare delle risposte complessive. Naturalmente abbiamo voluto dire al Presidente anche che dal nostro punto di vista, a partire dalle cose che noi abbiamo detto in campagna elettorale, vigileremo profondamente sulle grandi questioni aperte nel nostro Paese. Innanzitutto sul tema dei diritti. Siamo preoccupati perché quando vediamo che il primo atto al Senato da parte di autorevoli esponenti del centro-destra è presentare un disegno di legge restrittivo rispetto a una conquista straordinaria della storia democratica di questo Paese, cioè la legge 194, questa cosa ci immette grandi elementi di preoccupazione. E questi elementi di preoccupazione li vediamo anche se riferiti all'altra grande questione di cui la nostra lista ha voluto discutere, ha voluto parlare durante la campagna elettorale che è quella legata alla giustizia climatica. Noi non possiamo dimenticare che le destre, non soltanto in Italia ma in tutta Europa, in tutto il mondo, sono state negli anni profondamente negazioniste. Hanno negato che ci fosse l'emergenza climatica, che ci fossero i cambiamenti climatici e questa cosa ci mette in grande imbarazzo e in grande preoccupazione. Infine, stiamo ascoltando e stiamo assistendo in queste ore a quanto sta accadendo nella maggioranza parlamentare, peraltro nemmeno troppo sorpresi, e come si vede da quello che si legge sui giornali e dalle cronache di queste ore, se in questo Paese qualcuno vuole cercare dove sono annidati gli amici di Putin, non deve andare a cercarli nel movimento pacifista, che scenderà in piazza il 5 di novembre, li deve andare a cercare probabilmente nella maggioranza parlamentare. Noi abbiamo sempre votato in tutti questi mesi contro l'invio delle armi e continuiamo ad avere una posizione pacifista, ma naturalmente non per questo non distinguiamo chi è stato aggredito e chi ha aggredito. E anche su questo punto, ovviamente, marchiamo un elemento di distanza molto forte dal Governo che nascerà. Per tutte queste ragioni, ovviamente, voteremo no alla fiducia, lavoreremo anzi per costruire un coordinamento, speriamo quanto più possibile efficace, tra le forze di opposizione. Abbiamo dato già ieri, nella elezione dei Vicepresidenti del Senato e della Camera, dei Questori e dei Segretari d'Aula, un contributo a questa ricerca di ricostruzione di un terreno dell'opposizione e pensiamo che per noi questo debba essere un importante terreno di lavoro. Infine, e ho davvero concluso, abbiamo detto al Presidente Mattarella che giudicheremo il nuovo Governo anche sulla sua capacità, fatemela dire così, di fare fino in fondo i conti con la propria storia. Noi ci riconosciamo con molta forza nelle parole, secondo noi straordinarie, che la senatrice Liliana Segre ha voluto dire in Senato qualche giorno fa. Pensiamo che quell'intervento sia un faro rispetto a quello che si dovrà discutere in questo Paese e nei mesi e negli anni che verranno e naturalmente su questo non faremo sconti a nessuno. Grazie a tutti e a tutti. Franco Palazzolo, Radio Radicale. Dunque, le volevo chiedere se voi avete espresso dei dubbi sulla politica estera del nuovo Governo dopo le parole di Berlusconi. Poi volevo capire, lei ha detto che voterete contro l'eventuale fiducia al Governo. Nel vostro gruppo ci sono anche, credo, i senatori a vita. Loro manterranno una posizione autonoma? Punto interrogativo. Ovviamente io non posso in questo caso parlare per i senatori a vita che decideranno naturalmente come meglio ritengono. Ho precisato in apertura che io qui sono in doppia veste, in veste di Presidente del gruppo misto ma anche ovviamente di esponente della componente verde-sinistra e posso parlare da questo punto di vista ovviamente esclusivamente per la componente verde-sinistra. Sulla prima domanda abbiamo naturalmente commentato quello che sta accadendo nella maggioranza parlamentare e ha espresso le considerazioni che facevo a poc'anzi. Buongiorno Elisa Saltarelli di Prima Pagina. Senatore, lei ha espresso diverse criticità in merito a singole questioni. Ma pensate di avere la forza di fare d'ago della bilancia con i numeri che avete nel vostro gruppo? Guardi, io credo che i numeri in Parlamento, anche per esperienza personale, siano sicuramente importanti ma non siano decisivi. Mi è capitato in passato nella mia vita di fare il senatore di un piccolo gruppo parlamentare che anche all'epoca era nel gruppo misto, nella legislatura 2013-2018 e da noi partì in quel caso l'opposizione alla riforma costituzionale. Quando partì alla proposta di riforma costituzionale, che poi fu bocciata nelle urne, quando partimmo in quel caso eravamo in estrema minoranza e finimmo con il 60% della popolazione che al referendum si espresse contro quell'ipotesi di riforma costituzionale. Questo significa che i numeri ovviamente sono importanti ma che le idee sono ancora più importanti nei numeri. Per cui pensiamo di poter portare un contributo significativo, pensiamo di poter arricchire naturalmente il dibattito dell'intero Parlamento e pensiamo anche di poter portare un punto di vista anche all'interno delle forze di opposizione. Abbiamo sempre detto in tutte queste settimane, non abbiamo smesso di pensarlo, che consideriamo molto sbagliato quello che è successo nel campo delle forze democratiche progessiste nei mesi scorsi. Abbiamo giudicato molto negativa la rottura che si era consumata, che si è consumata nel campo delle forze democratiche progessiste e vogliamo lavorare per ricostruire quel campo perché ci sembra essenziale e fondamentale cominciare da subito ad immaginare una possibile alternativa in questo Paese. Buongiorno Senatore, Giovanni Lacanina, Casa Italia Radio. Le volevo chiedere se la vostra sarà un'opposizione di chiusura totale o magari ci sarà anche una sorta di atteggiamento responsabile nel caso in cui il Governo ne abbia bisogno per interesse del Paese. Grazie. Guardi, ovviamente io penso che quando si fa opposizione non bisogna mai perdere di vista l'interesse generale del Paese. È successo già altre volte in passato che forse di posizione hanno potuto votare un singolo provvedimento perché magari lo hanno ritenuto per l'appunto in una direzione positiva e ovviamente, ma sarebbe davvero folle se non fosse così, è chiaro che se ci fossero dei provvedimenti che cercano di contrastare quello che sta accadendo li esamineremo con grandissima attenzione. Come ho cercato di dire nel mio intervento siamo molto molto scettici perché se corrisponde a realtà quello che abbiamo ascoltato in campagna elettorale consideriamo le ricette proposte del tutto inadeguate per affrontare la crisi sociale del Paese e per risolvere la crisi sociale del Paese. Grazie. 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 Grazie.